Luciani, l'azienda agricola Pasta di Celiano, il nostro paese è stato distrutto, il centro storico è in zona rossa, molti nostri clienti hanno dovuto chiudere le attività e non hanno potuto ridurre la nostra pasta, grazie a Del Conca di averci sostenuto in questo difficile momento, un augurio e buon Natale.